buongiorno a tutti sono francesca iaboli sono un medico castroenterologo che ha praticato a londra fino a un anno fa da che sono tornata a vivere in italia milano ho voluto cambiare la direzione della mia carriera e cercare di contribuire alla crescita sociale del nostro bellissimo paese ho incontrato delle persone molto speciali con le quali abbiamo iniziato un progetto che si chiama pinxion wow che include i valori nei quali io credo per cui ho iniziato questa avventura sono salita a bordo di questa barca per persone con disabilità ma non solo un lavoro molto impegnativo ma anche molto divertente che mi ha aiutato a crescere in tanti aspetti di me che non conoscevo